Questo programma è offerto da Micra. Benvenuti al punto, benvenuti qui a Telefrioli, benvenuto al sindaco, super sindaco di Gorizia, tu di Rodolfo Riberna. Benvenuto caro sindaco. Grazie Enzo. Possiamo darci del tu, come ci diamo sempre, o devo darci del lei? Del tu, del tu. Ah, ecco. Vedete, vedete, anzi io ringrazio che mi fai dare del tu, perché essendo un'autorevole persona di salvatta, come si dice, no? Ci conosciamo da 40 anni, perciò abbiamo svelato anche la nostra età. Esatto. Bene, allora, grande soddisfazione di questa vittoria, di questa conferma di mandato, nonostante qualche mal di pancia, qualche polemica sui candidati. Però, insomma, Ziberna è riuscito a confermarsi. Ma anche perché, oggettivamente, quello che dicevo in campagna elettorale è vero, nel senso che abbiamo questa sfida legata anche alla capital europea della cultura, dico anche, a ciò è correlato anche tutta una serie di interventi, di cantieri, che guai se noi avessimo rallentato, guai se fosse cambiata la vision. Perciò la soddisfazione mia, innanzitutto, va perché non si ferma il treno in corsa a beneficio della città. La soddisfazione mia, certamente, anche perché mi sono trovato con sette, anzi sei competitor contro di me. Beh, insomma, un po' anche favorito, dai, un po' anche favorito. Sì e no, perché comunque non mi ha consentito magari di vincere al primo turno, come magari sarebbe stato anche carino. Su 630 candidati, 400 erano, in consiglio comunale, erano contro di me. Su 18 liste, 13 contro di me. È stato certamente impegnativo, ma ecco, quello che sono contento è che i cittadini abbiano compreso, abbiano capito. Che, ripeto, per la mia famiglia probabilmente sarebbe stato, anzi, certamente sarebbe stato meglio che non venissi rieletto, perché riacquisivano un padre e riacquisivano un marito. Semplicemente abbiamo posticipato di cinque anni il loro rientro in possesso di padre e di marito. Ecco, e qui c'è un programma molto intenso adesso, con la finale del capitale della cultura di Gorizia, che irradia questo suo stato su tutta la regione, perché i benefici saranno per tutta la regione, insieme con i partner, soprattutto sloveno. Ecco, è cambiato qualcosa dall'altra parte o no? Perché anche di là sono state delle elezioni che hanno cambiato quel quadro, forse, no? Sì, ha cambiato, diciamo, la governance, perché noi abbiamo due soggetti che operano de facto supportati, ovviamente dagli enti locali, dalla regione, dai sindaci, però sono due i soggetti che operano nell'ambito della capitale europea. Il GECTE, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che è presieduto da Paolo Petiziol, bravissimo, San Petiziol, e dall'altra parte una società di diritto sloveno. Ahimè, il premier Golov, che è un amico di Gorizia, lui è nato e vive a Nova Gorizia, e peraltro è stato anche presidente anni fa del GECTE, ahimè conosceva bene le capacità, le doti della direttrice della società di diritto sloveno, le conosceva talmente bene che se le è prese come capo di gabinetto sua. In questo momento perciò abbiamo un impasse, dobbiamo completare la governance, perché questi sono i due, non si può andare avanti se non abbiamo le due funzioni apicali. Lei mi chiedeva prima, però anche, mi sono dimenticato io di rispondere, della giunta, certamente qualcuno, ma io capisco, chi sta in minoranza, all'opposizione, qualcosa deve trovare, se l'avessi fatto in modo diverso si sarebbero lamentati comunque. Ho scelto le persone in base all'esperienza, alla competenza, il vicesindaco è una donna. L'elemento innovativo che ho deciso di introdurre anche nella governance politica è il lavoro di staff. Come lei sa, le grandi imprese straniere da anni e anni che usano lo staff, per me è indispensabile che anche i politici e gli amministratori usino lo staff. Perciò ogni argomento che ovviamente avrà una, in parte sarà di competenza di un assessore, in parte di un altro, l'importante è che i due o tre assessori, anche a latere competenti, lavorino in staff. Guai se la mano destra non sa che cosa fa la mano sinistra, anche perché non abbiamo tempo, ormai letteralmente dobbiamo correre. Da parte slovena invece in questo momento la linea è tracciata come da parte italiana, grande intesa con il sindaco Clemen Miklavic di Nova Gorizia, un grande amico. Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un attimo di quasi stand by, perché vanno al voto a ottobre per il Capo dello Stato, ma soprattutto a novembre sarà rinnovato il Consiglio Comunale di Nova Gorizia. Ma fino all'ultimo minuto si continua a lavorare e si ricomincerà un minuto dopo l'elezione. Ecco, quindi lo staff è la novità, quindi un salto di qualità nell'organizzazione che dà ancora più affidamento. Il programma è delineato, perché si continua il vecchio programma, ma con qualche innovazione in più mi pare qualcosa di innovativo, soprattutto ho sentito sulla viabilità. Poi parleremo poi degli eventi, perché Gorizia sta diventando un punto di riferimento importante in tutto l'Izontino e mi pare con questa spinta anche del collega Cisint a Monfalcone sta diventando un punto di riferimento per tutta la regione. Mi pare proprio un salto di qualità enorme. Ma ne parlavo proprio oggi con Monfalcone, a settembre a rientro dalle ferie intendiamo proprio istituire una cabina di regia degli enti locali stretta, poi sarà allargata a seconda delle necessità, perciò con Gorizia chiaramente, con Monfalcone punto di riferimento per la sinistra di Jonzo e con Cormons punto di riferimento per la destra di Jonzo, perché il minimo sindacale è proporci come territorio isontino, ovviamente oltre che come regione. Va da sé che quello che conta per me è che la vetrina possa offrire più prodotti possibili. Non voglio una vetrina che offra soltanto ciò che Gorizia esprime, perché se un cliente passa davanti a una vetrina e trova un prodotto, nemmeno se ne accorge e tira dritto. Noi vogliamo fare in modo che la vetrina sia ricca, che abbia appeal e che sia capace perciò di catturare l'interesse e la curiosità di tutti i clienti, ovviamente in senso di turisti che verranno nella nostra terra. Noi oggi tra l'altro, proprio oggi ci rivediamo con Barbara Zelli che ci sta dando una grandissima mano insieme a Tiziana Gibelli, proprio per quanto riguarda la capitale europea, abbiamo diversi interventi sia legati all'ambito delle strutture capaci di ospitare eventi non soltanto nel 2025 e anche per i prossimi decenni. Due tra tutte, il Palabigotte che sarà destinato a ospitare soprattutto eventi concertistici, anche ovviamente sportivi. Mi auguro che Gorizia possa disporre di una squadra in serie A1, A2 o A e B, prima o poi, ma in questo momento non c'è. Sono dei cicli che prima o poi ritornano, insomma. Sì, ma detto tra noi, a me piacerebbe anche in collaborazione magari con Udine, un'intesa con Udine sapendo che la squadra minore a Gorizia si ferma a un livello inferiore, nel senso che Gorizia e Udine sono 30 minuti di distanza, ci si impiega molto di più per uno che nel Lazio segue la Roma per andare a giocare a Roma, ci impiega una vita per il calcio, perciò siamo talmente piccoli che davvero fare campanile in una regione così piccola fa sorridere. Perciò ho citato questo, ma ho citato anche la struttura ex Mercato L'Ingrosso di Via Boccaccio, che sarà dotata di due posteggi sotterrani, una 750 metri in superficie, il top per ospitare attività merceologiche, fieristiche, culturali, sportive, di tutto, oltre che rappresentare anche un polmone, una boccata d'ossigeno per i posteggi, per tutti i coloro che visiteranno la Valetta del Corno, perciò 12 ettari di verde attrezzato, ecco perché noi la chiamiamo affettuosamente Central Park Goriziano, perché davvero Gorizia avrà un suo polmone verde, oggi non ne può disporre perché fino a ieri era un chilometro di arbusti e boscaglia assolutamente impenetrabile, ma mi riferisco al resto del verde, a quello che sempre chiamiamo Isonzo Bici, ma si chiamerà, voglio tranquillizzare i goriziani, il parco di piuma Isonzo, perciò una spiaggia sul fiume Isonzo attrezzato, ovviamente il fiume non è panneabile, ma riavviciniamo perciò il cittadino al fiume, peraltro opportunità verdi eccezionali che vanno dal Calvario al Sabottino al giardino Viatori gestito dalla fondazione Carigo, il parco Coronini, il parco sul castello sul quale andremo a investire a breve, il parco della Castagnevizza che collega la cripta di Carlo X e dei suoi familiari, ultimo re di Francia, al parco del castello. A proposito del castello, come siamo qui, lavora il castello? Perché molti chiedono a che punto è il castello, perché è sparito un po' dal radar e poi adesso ritorna, no? Sparito dal radar perché ahimè come tante opere pubbliche soggiace a importante criticità, perciò dall'aumento dei costi alla difficoltà delle imprese, alcune imprese sono a rischio diciamo di equilibrio, altre a rischio di materiale, perciò in questo momento come gran parte delle opere pubbliche è fortemente attenzionato da noi, ma mi dicono che è solamente questione di alcune settimane, nel senso che un collaudo non è stato fatto ma hanno già provato e la salita al castello funziona, non poterlo salire per evitare in caso di incidenti responsabilità civili e penale altrui, comunque funziona, adesso bisogna naturalmente procedere al collaudi ex legge. Poi abbiamo l'intervento all'interno del castello, piano terra e primo piano sarà breve riaccessibile, l'ultimo piano non appena avremo finito di rafforzare, di rinforzare le scale in legno perché a noi una volta non c'era l'acciaio secoli fa, ma si usava legno. E sulla viabilità c'è qualcosa da fare, perché mi pare qualcuno che sui sensi unici c'è qualcosa da dire. Ma è una battuta a senso unico questa, ma io non so se glielo ho detto, io quando c'è solo di fare il sindaco scriverò il libro Il Bignami del piccolo sindaco, che si comporrà soltanto di uno, un solo articolo. Chi aspira a fare il sindaco, mi raccomando, non istituisca sensi unici. Al di là delle battute, come ho assicurato, dal 2023 fino all'ottunno del 2024 saranno quasi due anni interessati da importantissime riqualificazioni del manto stradale, dei marciapiedi e del verde, anche perché vogliamo trasformare Gorizia in un vero e proprio gioiellino. Adesso la regione la prossima settimana passerà in aula la sua legge di assestamento che prevede anche importanti risorse per la riqualificazione delle strade di accesso, non municipali, ma regionali, di accesso, ex provinciali, di accesso alla città di Gorizia. Altri interventi importanti, mi riferisco al Ponte di Piuma, al Ponte 8 Agosto, alla Passarella. Insomma, caro sindaco, il cantiere continua, possiamo dire continua. Continua, stiamo lavorando per voi. Io andrò in giro con la maglietta, con scritto stiamo lavorando per voi. Bene, allora io ti ringrazio per questa disponibilità, so che sei funambolico perché hai ogni mezz'ora dei importantissimi incontri. Naturalmente grazie ancora, alla prossima, sei sempre gradito a Oste e un abbraccio virtuale dall'amico Enzo. Grazie Enzo, grazie, un saluto a te, un saluto ai telespettatori, perché se seguono la tua trasmissione sono telespettatori di qualità. Ciao, grazie ancora, alla prossima! Questo programma è stato offerto da Micra.